Il Catania continua a lavorare a Torre del Grifo in vista della trasferta di Catanzaro in programma domenica alle 14.30. I rossazzurri guidati dal Novellino cercano di trovare la giusta serenità per sbloccarsi ed invertire il trend negativo delle ultime trasferte, dato che nel 2019 fuori casa non è ancora arrivato un solo successo. Intanto ieri è arrivata la lieta notizia della prima convocazione di Califa Mannei nazionale, dato che il Gambia ha apprezzato le sue prestazioni e lo ha selezionato per la prossima partita. Il giovane esterno sarà certamente titolare nel match di Catanzaro, dove dovrebbe occupare la corsia di destra, a prescindere dal sistema di gioco che verrà utilizzato da Walter Novellino. Dall'altra parte gira infatti Barai e mentre si tengono sempre sotto controllo le condizioni di Marchese e Calapai, che potrebbero far parte dell'undici titolare. Ovviamente se fossero entrambi disponibili Novellino sceglierà o l'uno o l'altro, perché i restanti due posti in difesa sono Diai e Silvestri. In linea mediana resta confermato il trio di titolarissimi composto da capitani viaggianti Lodi e Rizzo, mentre in attacco è sempre più probabile che trovi spazio il duo formato da Di Piazza e Marotta, con Curial inizialmente in panchina.